Oggi non ne ho per nessuno, anzi mi scuso con i tifosi della Ternana, cioè stavo facendo un video prima, addirittura prima della partita, qualora il Palermo avesse vinto questa partita io stavo già pensando eventualmente che cosa dire, perché quello che ho visto poi dopo mi sarei effettivamente un po' schifato oggi di vincere anche 1-0, rubacchiato magari, mi sarei veramente schifato perché prestazione non c'è stata. In tutto ciò il Palermo ha subito 12 gol e ne abbiamo fatti solamente 6, 6 gol da quando è incominciato il campionato. Abbiamo perso mi pare 5 volte, abbiamo vinto 2 volte e ne abbiamo pareggiata 1, dove magari si poteva anche recriminare, ma in ogni caso ormai anche quel modo di recriminare lì neanche serve, perché oggi ho avuto la conferma che non siamo una squadra. E non siamo, attenzione, una squadra solo perché è l'allenatore che io mi auguro con tutto il cuore, io gli voglio bene perché è stato un grande calciatore e l'ho amato e amo il Palermo anche quando mi incazzo e mando a quel paese le persone, i calciatori e gli allenatori, ma non perché vado a contestare il lato umano ma vado a contestare il lato sportivo, ci mancherebbe, perché poi c'è la gente che confonda le due cose, ma appunto non significa che se tu sei stato un grande calciatore ed allenatore sei un fenomeno, non sei Murigno, non sei Guardiola, non sei Ancelotti, quindi per cui io mi auguro, mi auguro che City Group non abbia questa mentalità del cazzo, del cazzo, di tenere un allenatore ancora per le prossime partite, perché quando vedi che una squadra non ti gioca, quando una squadra non ti gioca e non ti tira in porta, lo devi mandare a casa. Basta, basta, il tempo delle chiacchiere è finito, mi sarei scusato con i tifosi della Ternana se qualora oggi vincevamo pure 1-0, e gli sta stretto anche il risultato, dirò di più, gli sta stretto il risultato alla Ternana, e mi fa ridere, mi fanno ridere quei tifosi del Palermo, che dicono ma ci vuole tempo, per carità, il tempo ci vuole sempre per ogni cosa, per ogni cosa, ma dopo un po' la pazienza ho il limite, quando vedi che una squadra non lotta in campo, credo che sia arrivato il momento di cambiare l'allenatore, perché purtroppo il giocatore non li puoi cambiare, al di là della disponibilità economica che c'è a City Group, va bene lo stesso, ma è arrivato il momento di cambiare guardia, passare a un allenatore sicuramente qualificato, e non puntare su sto algoritmo del cazzo che non è servito a niente, se non a perdere tutte le partite, e mi auguro, mi auguro, che nelle partite contro Pisa, Cittadella, da parte dei giocatori, ci sia quella prestazione che attualmente, allo stato attuale, non c'è mai stata, che non c'è mai stata, e io mi, credete, mi vergogno per voi, perché se io fossi stato un calciatore, avrei sputato sangue dall'inizio, dal primo al novantesimo, e oggi mi sento dire, a Cardi fuori squadra, Elia che era infortunato lo metti titolare, Valente sta fuori, Floriano non gioca, non metti mai quel poveraccio di Vido, Pierozzi addirittura neanche, neanche, convocato per una gara dove tu potresti mettere un terzino, diciamo, di un certo tipo come Pierozzi, che penso che se a Reggio Calabria ha il fratello più forte, non penso che abbia il fratello più scarso, penso che le caratteristiche siano più o meno quelle, soprattutto se è un allenatore che ti plasma, noi non abbiamo neanche quello, non fa un cazzo, guarda lì tutto il tempo la gara, e tra l'altro la cosa ancora più sconcertante è che se un allenatore è nervoso per tutta la partita, esce dall'area tecnica, a fine gara scappa, scappa, come dovrebbe scappare come allenatore, e lo apprezzerete a signore che è, perché io penso che Corini sia un signore, mi auguro che si dimetta, perché non ha dato tranquillità, serenità allo spogliatoio, mi fermo qui, non c'è neanche bisogno di commentare la partita, perché è stato veramente qualcosa di delirante, qualcosa che manco c'è bisogno neanche di commentarli, tutti vergognosi, dal primo all'ultimo, dal calciatore all'allenatore, a tutto lo staff, basta, mi auguro, mi auguro perché poi mancherò sicuramente qualche settimana, perché ho intenzione di creare dei contenuti importanti, quindi mancherò sicuramente qualche giorno, qualche settimana, adesso vedrò, ma mi auguro che ci sia un cambiamento radicale dal primo all'ultimo, perché è veramente la pazienza per un tifoso palermitano che ci tiene al Palermo a un limite, vero che City Group ha un suo progetto, pensiamo alla salvezza, ma qua neanche la salvezza tra poco riusciamo a fare, tra poco neanche la salvezza, con quattro scappati di casa che neanche riescono a tenere un pallone tra i piedi, ci becchiamo alla prossima, ciao!